L'assemblea della SRR4 si era spaccata in attesa della nuova riunione fissata per i primi giorni di luglio. Il progetto della regione, che prevede l'aumento del conferimento di rifiuti a Timpazzo, ha generato la netta opposizione del sindaco Lucio Greco, con conseguenze interne alla stessa SRR presieduta dal sindaco di Butera, Filippo Balbo. Palermo va comunque avanti anche per trovare soluzione alternativa allo stop quasi totale del sito di Lentini. Negli scorsi giorni ci sono state nuove interlocuzioni emissive tra il Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e gli uffici della SRR e della Impianti SRR. I tecnici della regione già da settimana hanno rilasciato pareri che consentono sulla carta di far arrivare a Timpazzo quantitativi fino a 950 tonnellate al giorno. Un'ulteriore fase ancora più concreta, sempre su richiesta della regione, ha trovato l'assenso del CDA della SRR composto da Balbo e dai sindaci di Mazzarino e Deia. E' stato infatti autorizzato il conferimento di rifiuti indifferenziati che giungeranno da Lentini fino a 200 tonnellate al giorno, ma solo per i prossimi quattro mesi. Il CDA ha votato il Via Libera dopo aver ricevuto richiesta ufficiale dalla dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti della regione. E' stato già predisposto il contratto tra Sicula Trasporti che gestisce il sito privato di Lentini e la Impianti SRR dell'amministratore Giovanna Picone. Atto che è stato autorizzato dal CDA SRR nelle scorse ore. Tutti i comuni dell'ambito sono stati messi a conoscenza. Il presidente Balbo in una nota ufficiale scrive che rispetto alla richiesta iniziale di ulteriori 500 tonnellate al giorno presso la discarica di contrada Timpazzo Per puro spirito di solidarietà verso gli altri comuni siciliani che vivono al momento uno stato emergenziale, è stato autorizzato un conferimento aggiuntivo di 200 tonnellate al giorno per quattro mesi. Lo stesso greco in assemblea non aveva escluso per un periodo limitato la possibilità di ulteriori conferimenti che comunque non arrivassero a 950 tonnellate al giorno come previsto nelle autorizzazioni regionali. Il CDA della SRR è aperto a questa soluzione mediana in attesa di capire se tempi e quantitativi metteranno d'accordo tutti. Sicuramente la regione non arretra e individuato nella piattaforma pubblica di Timpazzo un nodo nevralgico nella gestione dell'attuale emergenza rifiuti come definita nell'ordinanza emessa lo scorso marzo.